il secondo brano è wake up scritto nel 2013 per ottavino e sveglia di tilman denard se pensi che una sveglia fosse utile solo per svegliarti ripensaci non è proprio così per denard diventa uno strumento musicale apre un mondo completamente nuovo tilman denard è un flautista compositore professore nato nel 1968 in germania ha studiato flauta e sassofono a berlino dove vive attualmente è un creatore di musica specializzato in tecniche sonore insolite lui combina la moderna tecnica di esecuzione con tecniche di respirazione continua denard imposta la partitura con schemi di diteggiatura e scrive dettagliatamente la modalità esecutiva il compositore in wake up costruisce su di una sveglia che suona la parte giocosa dell'ottavino intorno allo schema ritmico di un sedicesimo la linea dell'ottavino si intreccia dentro e fuori dalla sveglia dell'orologio e sfida il musicista a rimanere sia nel ritmo che nel tempo la sveglia nella prima parte del brano è il compito di tenere il tempo il ritmo è semplice quasi cantabile e rimane sempre incisivo il brano evolve in un incalzare di note e di improvvisazione la sveglia diventa parte del flauto e combina simmetria ritmica e dialogo fra le parti è un brano di livello avanzato ed è da carattere energico ed espressivo buon ascolto grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.